Approfondiamo come cambia la valutazione nella scuola primaria a partire dall'anno scolastico 2020-2021. Per approfondire come cambia la valutazione nella scuola primaria a partire dall'anno scolastico 2021, vedremo nel dettaglio come la stessa si esprime in giudizi descrittivi in sostituzione dei voti. Per analizzare attentamente ogni passaggio, articolerò questa descrizione, questa relazione in quattro punti. Il primo punto riguarda i principali riferimenti normativi. Il secondo punto riguarda le novità introdotte per l'anno scolastico 2021. Il terzo punto, il ruolo degli organi collegiali in merito al tema valutazione. E l'ultimo, i punti fermi, i cardini sui quali si deve impostare l'attività della programmazione e della valutazione nella scuola primaria. Partiamo col primo punto, i principali riferimenti legislativi. Andiamo ritroso, partiamo dai più recenti. Innanzitutto l'ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 che ha, attraverso questa norma, introdotto nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti i giudizi descrittivi. Questa ordinanza discende a sua volta dal cosiddetto decreto scuola. Il decreto che è stato approvato nell'aprile scorso, poi convertito in legge a giugno che ha inizialmente introdotto i giudizi nella valutazione finale e successivamente esteso questa valutazione anche alla valutazione periodica. L'altro riferimento fondamentale che è allegato all'ordinanza ministeriale 172 sono le cosiddette linee guida che hanno un ruolo orientativo ma che aiutano molto nell'affrontare il tema della formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale. Questo percorso non è nuovo. Discende dal precedente decreto legislativo 62 del 2017 che è uno dei decreti discendenti dalle deleghe della buona scuola ossia della legge 107 del 2015. Infatti già all'interno di questo testo si era intrapreso un vero e proprio percorso per distinguere la valutazione degli apprendimenti dalla certificazione delle competenze e arrivare progressivamente all'interno di ogni istituzione scolastica a realizzare questi due passaggi. La valutazione riguardante i risultati di apprendimento quindi un giudizio fondato su elementi di verifica e che sono anche l'esito diciamo così di un itinerario piuttosto complesso e la certificazione delle competenze che invece tenta di offrire una rappresentazione del saper fare intenzionale ed efficace raggiunto dall'allievo e descritto in relazione al contesto nel quale questo si realizza. Questo decreto legislativo, quindi il 62 del 2017 ha sistematizzato, integrato e modificato le precedenti norme relative al tema valutazione e quindi ha integrato le precedenti norme tentando di rivedere l'impianto del tema valutazione e certificazione. Naturalmente tutti questi riferimenti hanno però una fonte principale un faro di riferimento che sono le indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione che sono state approvate nel 2012 col cosiddetto decreto MIUR 254. Perché sono il faro di riferimento? Perché devono essere il punto di riferimento per ogni docente per poter impostare la propria programmazione all'interno di una scuola che è riconosciuta come scuola autonoma. Pertanto ogni istituzione scolastica, partendo dalle indicazioni nazionali, elabora un proprio curriculum, un curriculum di istituto, un curriculum che deve essere verticale e quindi accompagnare progressivamente dalle prime classi alle ultime classi e agli ordini di scuola successivi e che soprattutto deve rispettare i vincoli ordinamentali. Una volta elaborato questo curriculum va inserito all'interno del piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e deve essere riferimento per la progettazione dell'attività didattica. A sua volta, parlando delle indicazioni nazionali e della elaborazione di un curriculum da parte della scuola autonoma, l'altro riferimento fondamentale deve essere il DPR 275 del 99, il Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, che ha introdotto quella che è stata definita l'autonomia funzionale e quindi l'autonomia didattica di ricerca organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, che ogni scuola ha tra i propri poteri e che può esercitare. L'altro riferimento fondamentale riguarda logicamente gli ordinamenti e nel caso della scuola primaria il riferimento è il DPR 89 del 2009, e il piano dell'offerta formativa, all'interno del quale, come dicevamo prima, ogni scuola, oltre che a inserire il proprio curriculum, deve inserire anche i criteri, i tempi e i modi della valutazione che ha discusso e definito all'interno del Collegio dei Docenti. Infine, i due ultimi riferimenti imprescindibili sono il Decreto Legislativo 297 del 1994, meglio noto come testo unico delle norme sulla scuola, che in particolare dall'articolo 5 all'articolo 15 elenca quali siano gli organi collegiali e come siano composti e quali ruoli ricoprono. Naturalmente, norme successive hanno integrato e rivisto questi poteri, ma il riferimento principale che è stato eventualmente novellato o aggiornato attraverso norme successive rimane questo Decreto. Infine, dal momento che la reintroduzione dei giudizi nella scuola primaria riguarda tutte le istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, bisogna fare riferimento alla Legge 62 del 2000, che è quella che ha riconosciuto la parità alle istituzioni scolastiche da allora definite paritarie, in un sistema pubblico integrato. Passiamo ora al secondo punto. Quali sono le novità introdotte a partire dall'anno scolastico 2021? Innanzitutto, bisogna che ogni istituzione scolastica, nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti della scuola primaria, esprima un giudizio. Questo giudizio riguarda ciascuna delle discipline di studio che sono previste dalle indicazioni nazionali, compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica. La valutazione in itinere deve essere logicamente in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e resta espressa da parte dei docenti nelle forme che vengono ritenute più opportune ed utili per restituire i risultati in modo ragionato con le famiglie e agli studenti. Naturalmente, la valutazione in itinere, che fa capo ad ogni docente, può essere espressa nei modi che si ritiene più consoni, ma deve essere in linea con quelle che sono le operazioni e le indicazioni relative alla valutazione poi periodica e finale. I giudizi, che devono essere appunto espressi in maniera descrittiva, devono fare riferimento agli obiettivi di apprendimento inseriti nel curriculum di ogni istituzione scolastica. Nel curriculum di ogni istituzione scolastica, quindi ogni scuola, per ogni anno, per ogni disciplina, deve indicare specifici obiettivi di apprendimento che, logicamente, devono a loro volta fare riferimento alle indicazioni nazionali. Infatti, è ben detto prima, che devono essere il principale riferimento per quanto riguarda la programmazione e l'attività di ogni docente. E, in particolare, bisogna prestare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. I giudizi, così espressi, logicamente, devono essere anche coerenti col modello di certificazione delle competenze, che è quello che viene rilasciato alla conclusione del quinto anno della primaria e alla conclusione del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. I giudizi devono far riferimento a determinati livelli di apprendimento. Il Ministero, nell'ordinanza ministeriale 172 e nelle linee guida, indica quattro livelli di apprendimento in via di prima acquisizione, base, intermedio e avanzato. È precisa che questi quattro livelli non possono essere modificati, non possono essere né ridotti né arricchiti, perché sulla base di un'impostazione pedagogica e l'analisi, giustamente anche didattica, di quegli elementi che fanno da sfondo, questi quattro livelli di apprendimento sono quelli che meglio esprimono i diversi livelli che vengono raggiunti dagli studenti. L'istituto, l'istituzione scolastica, elabora, come abbiamo visto prima, i criteri di valutazione che devono essere inseriti nel piano dell'offerta formativa e mantiene la disciplina che era già in vigore per quanto riguarda l'insegnamento di religione cattolica, di attività alternativa e la valutazione del comportamento. Inoltre, nella ordinanza ministeriale 172 si fa esplicito riferimento al cosiddetto PEI per quanto riguarda gli alunni diversamente abili e al PDP per quanto riguarda gli alunni certificati con DSA o con bisogni educativi speciali, perché è chiaro che nel momento in cui si vanno ad individuare gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina di ogni anno, i docenti devono fare riferimento a questi due documenti per poter calare gli obiettivi di apprendimento su quelli che sono i piani personalizzati relativi a particolari situazioni. Infine, il Ministero chiarisce che a partire dall'anno scolastico 20-21 e poi per il 21-22 si passa progressivamente all'attuazione di quanto indicato all'interno dell'ordinanza e inoltre sono previste delle attività di formazione periodica messe in cantiere direttamente dal Ministero. Le linee guida che sono allegate all'ordinanza, precise al Ministero, non impongono assolutamente nulla, ma suggeriscono ed integrano l'attività, quanto scusate, indicato dalle indicazioni nazionali. Pertanto, sono un utile riferimento da prendere in considerazione. Veniamo ora al terzo punto, il ruolo degli organi collegiali in merito al tema valutazione. In particolare, analizziamo l'operato di due organi collegiali, che sono il Consiglio di classe e il Collegio docenti. Per quanto riguarda il Consiglio di classe, che ha un ruolo di coordinamento didattico e di cura dei rapporti interdisciplinari, è chiaro che ha anche un ruolo centrale per quanto riguarda la valutazione periodica finale. Infatti, è proprio il Consiglio di classe che deve, per ogni anno scolastico, per ogni disciplina, stabilire quali siano gli obiettivi di apprendimento. Il Collegio docenti. Il Collegio docenti, che è composto da tutti i docenti operanti all'interno di una scuola, ha dei compiti molto complessi e vari. Tocchiamo in particolare quelli relativi direttamente o indirettamente alla valutazione. Prima di tutto, cura la programmazione. In secondo luogo, elabora il piano triennale dell'offerta formativa, che abbiamo detto deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio. In terzo luogo, delibera la suddivisione dell'anno scolastico in periodi e pertanto, di conseguenza, si stabilisce il momento dell'anno in cui va espressa questa valutazione periodica, a seconda che noi abbiamo stabilito il trimestre, il quadrimestre o il pentamestre. In quarto luogo, valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, con l'obiettivo anche di curare l'orientamento. Inoltre, stabilisce i criteri, le modalità e gli strumenti della valutazione che inserisce all'interno del piano triennale dell'offerta formativa. Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, in virtù dell'autonomia didattica, può progettare dei percorsi per la rilevazione e la valutazione delle competenze per arrivare progressivamente a quella che è la certificazione e delle competenze che abbiamo accennato prima. E infine, ha responsabilità in un altro tema molto delicato, che è quello dell'autovalutazione, cioè quel percorso che attraverso il rapporto di autovalutazione porta all'elaborazione del piano di miglioramento, del piano triennale dell'offerta formativa all'interno del quale vanno inseriti gli elementi di miglioramento e quali canali e strumenti utilizzare per migliorare i punti di forza e sistemare i punti di debolezza e infine l'elaborazione del bilancio sociale. Quindi l'istituzione scolastica e il collegio docenti hanno un ruolo anche in merito all'attuazione di quel sistema nazionale di valutazione che è stato introdotto a partire dal 2013. Infine, tocchiamo il quarto punto. Quali sono gli elementi principali ai quali fa riferimento per fare in modo che a partire dall'anno scolastico 2021 vengano reintrodotti i giudizi in sostituzione dei voti? Prima di tutto, la valutazione è bene ricordare che è una delle competenze che il docente deve avere. Infatti, l'articolo 27 del contratto collettivo del comparto scuola del 2016-2018 elenca chiaramente tutte le competenze dei docenti e tra queste vi è la competenza di valutazione. Inoltre, è importante chiarire come nelle linee guida si spiega che per quanto riguarda la scuola primaria c'è il progressivo superamento del voto numerico per riuscire a rappresentare, dice l'ordinanza, le linee guida in trasparenza gli articolati processi cognitivi, metacognitivi, emotivi e sociali attraverso cui si manifestano i relativi apprendimenti. Inoltre, la valutazione degli apprendimenti ribadiamo, come abbiamo già fatto anche in altre occasioni, che deve avere un ruolo formativo e formatrice, cioè la valutazione deve, attraverso il suo ruolo di valutazione formativa, stabilire effettivamente quali sia il dispositivo più adatto per raggiungere gli apprendimenti, ma anche offrire elementi utili perché si possa rivedere la programmazione, ma anche un ruolo fortemente formatrice, cioè la valutazione è anche formatrice. Infatti, deve offrire allo studente, in questo caso l'alunno o l'alunna, perché siamo una scuola primaria, una rappresentazione ben chiara degli obiettivi per poter pianificare l'azione, i criteri e la gestione anche degli errori, senza che questi vengano vissuti con particolare frustrazione, ma debbano essere vissuti come un elemento dal quale partire per poter migliorare. Per cui, l'idea di una valutazione formatrice è quella che introduce progressivamente a quella valutazione, scusate, a quella riflessione metacognitiva che accompagna i nostri apprendimenti. Già il decreto legislativo 62 del 2017, quello che abbiamo detto discendente dalla buona scuola, aveva precisato come la valutazione dei processi formativi e dei risultati di apprendimento era una delle attività da doversi condurre all'interno della scuola e che soprattutto il suo ruolo era quella di documentare lo sviluppo dell'identità personale dell'alunno e promuoverne l'autovalutazione. Naturalmente, le scelte relative a questa valutazione e all'espressione dei giudizi devono essere coerenti col piano triannale dell'offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni nazionali e soprattutto devono rispettare i criteri che sono stati definiti dal collegio dei docenti. Le indicazioni nazionali esprimono molto bene quale sia il ruolo della valutazione all'interno dell'attività didattica. Infatti, dicono che la valutazione precede, accompagna e segue ogni percorso curricolare in modo tale da poter valorizzare le progressi ottenuti dagli alunni. Quindi, la valutazione che precede è quella valutazione che ci fa raccogliere gli elementi utili per poter impostare la nostra programmazione, quindi potremmo definirla una valutazione diagnostica. La valutazione che accompagna è quella valutazione formativa che abbiamo visto prima, che ci serve appunto per individuare quali siano gli elementi sui quali far leva e la valutazione che segue logicamente una valutazione sommativa, una valutazione più che fa una verifica e certifica poi quello che viene raggiunto. pertanto quale percorso deve intraprendere ogni scuola primaria a partire da quest'anno? Innanzitutto deve partire dalle indicazioni nazionali del primo ciclo, declinarle in curriculum di istituto, operazione che dovrà fare ogni istituzione scolastica e molte istituzioni scolastiche l'hanno già fatto, e una propria programmazione annuale. Partendo da questi elementi hanno tutte le scuole dei documenti di riferimento per poter individuare il repertorio di obiettivi di apprendimento che debbono servire per la valutazione periodica e finale di ogni disciplina. Pertanto gli obiettivi di apprendimento che devono essere individuati riguardano dei campi del sapere, delle conoscenze e delle abilità che sono indispensabili per raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze. In questo senso le stesse linee guida precisano come gli obiettivi di apprendimento devono contenere un riferimento all'azione, quindi quanto viene messo in atto, ossia il processo cognitivo, e un riferimento al contenuto disciplinare, cioè quell'aspetto a cui l'azione si riferisce. Il Ministero nelle linee guida alla pagina 3 spiega anche molto bene e dà diciamo così delle indicazioni molto precise rispetto a come formulare attentamente questa azione e questi contenuti. Infatti chiarisce che nel momento in cui io faccio riferimento al processo cognitivo non devo utilizzare dei verbi troppo generici, ma per descrivere il processo cognitivo devo utilizzare dei descrittori precisi, per esempio dice elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, in modo tale sostanzialmente da evitare dei descrittori troppo generici che quindi direbbero tutto e direbbero niente. Per quanto riguarda invece i contenuti disciplinari, precisa come anche questi, possono essere di vario tipo e avremo modo in un successivo video in cui affronteremo soprattutto le basi pedagogiche e didattiche della valutazione di poter far riferimento a quegli elementi che hanno ispirato questa riflessione sui contenuti disciplinari. Infatti, i contenuti disciplinari precisano le linee guida possono essere di carattere fattuale, concettuale, procedurale o metacognitivo. I livelli che vengono elaborati e vengono poi raggiunti naturalmente il Ministero precisa come possono fare riferimento a diverse dimensioni e nelle linee guida il Ministero ne suggerisce quattro che sono precisamente l'autonomia, la tipologia di situazione, le risorse e la continuità. Infatti, è interessante andare a vedere alla pagina 4 e 5 delle linee guida come il Ministero offre un chiarimento su come poter articolare queste diverse dimensioni. Infatti, per esempio, quando si esprime in merito ad un livello avanzato di apprendimento dice l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note quindi tipologia di situazione prima dimensione mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove quindi risorse in modo autonomo terza dimensione autonomia e con continuità quarta dimensione continuità. Un altro esempio quando, per esempio, descrive il livello base dice l'alunno porta a termini compiti solo in situazioni note tipologia di situazione e utilizzando le risorse fornite dal docente seconda dimensione risorse sia in modo autonomo ma discontinuo sia in modo autonomo ma con continuità quindi le altre due dimensioni quella dell'autonomia e quella della continuità nella linea guida precisa anche che queste dimensioni sono suggerite sono fondamentali queste dimensioni ma non è escluso che la scuola ne possa aggiungere delle altre per esempio se ha introdotto degli elementi di riflessione metacognitiva sul proprio operato potrebbe inserire una quinta dimensione che è la capacità dell'alunno di poter esprimere una riflessione sulla propria azione e quindi potrebbe essere una quinta dimensione che va a arricchire le dimensioni utilizzate per appunto esprimere questi livelli di apprendimento è chiaro che in questo modo attraverso l'ordinanza e le linee guida l'obiettivo al quale vuole arrivare il ministero è quello di operazionalizzare quindi fare emergere diciamo così la struttura logica sottesa alla valutazione e valorizzare quanto di questo molte scuole hanno già fatto e soprattutto fare in modo di chiarire come la valutazione sia strettamente connessa alla progettazione quindi sia funzionale alla progettazione ma anche la progettazione serva per poter operare poi una valutazione quindi ogni istituzione scolastica a partire dal corrente anno scolastico nell'elaborare il proprio documento di valutazione cosa deve inserire la disciplina alla quale si fa riferimento gli obiettivi di apprendimento o i nuclei tematici che sono stati appunto affrontati e che dovevano essere raggiunti per anno scolastico il livello raggiunto e il giudizio descrittivo inoltre ribadisce attentamente il ministero come è molto utile che questo passaggio tanto delicato ma significativo venga attentamente descritto e ben precisato le famiglie perché è chiaro che diventa molto più spontaneo e semplice vedere la traduzione degli esiti di apprendimento attraverso un voto il giudizio descrittivo potrebbe essere più difficilmente comprensibile quindi precisa come sia importante che questa comunicazione con le famiglie rispetto alla valutazione periodica in prima battuta e finale poi debba essere una valutazione molto trasparente e chiara in modo tale che si possa aiutare nella lettura e nella comprensione del testo inoltre se vogliamo diciamo così entrare nel vivo di una discussione che potrebbe aprire un intero seminario sul tema sarebbe interessante che la reintroduzione dei giudizi e la sostituzione dei voti possa riguardare anche gli altri ordini di scuola infatti ha un ruolo fondamentale nell'accompagnare anche in termini di orientamento e nell'aiutare nel passaggio di testimoni delle informazioni da un ordine all'altro di scuola momenti molto delicati all'interno dei quali frequentemente crescono i livelli di dispersione riuscire ad avere una descrizione molto chiara ed un ruolo anche di orientamento di questa descrizione potrebbe essere davvero di grande aiuto per lottare contro la dispersione ma l'ideale sarebbe che questo percorso si completasse estendendo i giudizi anche agli altri ordini di scuola infine due ultimi riferimenti da ricordare questo percorso che riguarda in particolare per quest'anno la scuola primaria dovrebbe essere accompagnato da un altro percorso fondamentale già introdotto nel 2012 dalle indicazioni nazionali che è quello dell'essenzializzazione del curriculum infatti pensare di avere un lungo elenco di obiettivi di apprendimento è davvero impensabile perché altrimenti si rischia di mettere troppa carne al fuoco e non riuscire a raggiungere determinati risultati è un po' come pensare di studiare un libro sottolineandone tutte le pagine non serve assolutamente nulla per cui è importante che ogni scuola avvii un percorso di essenzializzazione del curriculum individuando quali siano quegli aspetti quei nuclei tematici indispensabili e imprescindibili che per ogni disciplina e per ogni anno scolastico dovrebbero essere affrontati perché funzionali al percorso che poi arriva alla certificazione delle competenze infine e lo ribadiscono anche le linee guida tener conto di una pluralità di strumenti a disposizione per poter condurre l'attività di valutazione aspetto che sottende in base ad ogni strumento determinate scelte pedagogiche e didattiche che avremo modo di approfondire in un successivo video in cui tenteremo proprio di analizzare come la reintroduzione dei giudizi ha come sfondo una ben precisa impostazione pedagogico-didattica dell'attività all'interno della scuola grazie a tutti